Nell'ambito dell'intervento abbiamo affrontato la costruzione del protocollo Green Building Council per gli edifici storici, il protocollo GBC-HB. Il protocollo è un protocollo di certificazione del livello di sostenibilità dell'intervento sull'edificato storico, sul costruito storico. Me ne sono occupato nella redazione coordinata dalla Burin come responsabile scientifico del protocollo di cui oggi vedremo altri due interventi. L'iniziativa è molto interessante perché iniziamo proprio oggi a vedere i primi interventi certificati attraverso questo protocollo che in qualche modo sono il risultato tangibile di quello che è stato fatto già a partire dal 2012. Nell'ambito dei contenuti del protocollo io credo che l'aspetto più rilevante e più importante sia quello legato a una compatibilità consapevole. Noi diciamo così nell'ambito di un processo che deve essere comunque sostenibile ma che interessando l'edificio storico deve in qualche modo garantire la conservazione e la tutela del bene cerchiamo di sintetizzare l'approccio attraverso queste due parole che sono la compatibilità consapevole e quindi che in qualche modo eredica dalla conoscenza del costruito e la aiettoria è l'approccio su cui direzionarsi, su cui dirigersi.